Cicerone, le opere filosofiche, l'epistolario e le opere poetiche Cicerone effettuò la sua formazione culturale fino al 1945 e si occupò di studi di retorica e della filosofia ellenistica ma aveva sempre fisso il suo interesse primario che era quello politico, quindi l'attuazione, la concretizzazione di queste teorie filosofiche nella vita politica Quindi quando approdò alla filosofia dopo tutta la lunga carriera di oratore di maestro di retorica, lo fece come un servizio che doveva rendere ai suoi concittadini come se fosse stato il compimento proprio di quel vasto progetto culturale ed educativo che aveva già iniziato con i grandi trattati di retorica Perché fra il 1946 e il 1945? Perché in questo periodo ci fu una coincidenza di eventi molto dolorosi sia dal punto di vista privato, quindi il divorzio e la morte della figlia sia dal punto di vista pubblico in quanto fu costretto a ritirarsi dalla vita politica a causa prima del primo triunvirato e poi della dittatura di Cesare Quindi si diete praticamente a questa intensissima attività filosofica scrive quindi una quindicina di opere in poco più di tre anni e in questo modo si sentiva ancora utile ancora utile ai suoi concittadini, alla sua Roma La filosofia in un certo senso diventava anche una specie di medicina doloris cioè un mezzo per lenire gli affanni della vita Il suo obiettivo era quindi quello di avvicinare i romani ai grandi sistemi della filosofia greca ed ellenistica Per cui lui si orientò più verso la divulgazione di questi pensieri dei metodi ellenistici della filosofia ellenistica piuttosto che verso un'elaborazione originale di idee o la produzione di un suo sistema teorico Da qui quindi l'ecletismo della sua impostazione Cioè per Cicerone non si trattava di scegliere l'una o l'altra scuola come la migliore ma si trattava piuttosto di attingere il meglio un po' da tutte Quindi lui si sforza di stabilire tra le diverse dottrine una specie di dialogo costruttivo sempre tenendo presente la ricerca del giusto mezzo Molto in sintesi possiamo dire che egli accoglierà le istanze dell'accademia e dello stoicismo moderato mentre rifiuterà da una parte l'epicureismo dall'altro lo stoicismo radicale All'interno di questo ecletismo ritroviamo di nuovo il suo ideale di humanitas che è un atteggiamento di tolleranza Infatti nei dialoghi di cui sono composte praticamente tutte le sue opere filosofiche tranne i paradoxa e il de officis vediamo che ogni interlocutore presenterà la propria tesi attraverso il metodo dossografico che come abbiamo già visto è quello di comparazione delle varie tesi filosofiche sullo stesso argomento presentando quindi la propria tesi come un'opinione personale non come una verità assoluta e lo fa nella cortesia totale nei confronti degli altri interlocutori non interrompe mai l'esposizione altrui e soprattutto chiunque espone la propria tese non è mai aggressivo nei confronti degli altri e nel confutare le altre tesi quindi ripetiamo l'humanitas che è un dominio della ragione sui sentimenti è una virtù di equilibrio, di tolleranza e di affabilità dotata di cultura enciclopedica e di buone maniere quindi di urbanità, di urbanitas i temi delle opere filosofiche la prima opera che compone è un'opera giovanile del 46 sono i Paradoxa Stoicorum Cicerone con molta modestia ci dice che questa, quest'opera non è altro che un semplice esercizio retorico in realtà però sono una profonda riflessione sui mali presenti e sono anche un tentativo di sostenere moralmente i suoi concittadini in questa opera espone sette tesi stoiche che secondo lui sono le più adatte le più degne di Socrate e sono l'onestà è l'unico bene la virtù da sola può far raggiungere la felicità quindi è sufficiente alla felicità tutti gli errori come tutte le buone azioni sono uguali quindi non c'è nessuna gradatoria fra di loro chi non pratica la saggezza è un folle poi solo il saggio è un vero cittadino tutti gli altri vivono all'interno della propria città come se fossero degli esuli infine il saggio soltanto è libero tutti gli altri sono schiavi e soltanto il saggio ha la vera ricchezza è veramente ricco nel marzo del 45 si aggiunge al crollo degli ideali politici quindi al suo tra virgolette fallimento si aggiunge la morte della figlia della figlia Tullia e in questa occasione quindi scrive una consolazio che è un'opera rivolta a se stesso cioè giunta molto frammentaria ma come temi doveva avere la miseria della vita umana oppure degli argomenti consolatori presi dalle varie filosofie e l'immortalità dell'anima seguirà poi sempre nei primi mesi del 45 l'Hortensius che è il primo passo del suo progetto di rivolgazione filosofica infatti l'Hortensio è un dialogo tipo aristotelico appartiene al genere protrettico cioè è un'esortazione allo studio della filosofia e quest'opera è andata perduta però nell'antichità è per molta fama tant'è perché noi sappiamo che l'aveva letta Sant'Agostino e grazie a quest'opera si era acceso d'amore per la filosofia un'altra opera che ci è giunta molto frammentaria furono gli accademici libri in cui parla della conoscenza riguardo il problema della conoscenza accademica l'Accademia di Platone c'è poi il definibus bonorum et malorum che molti considerano come la il capolavoro uno dei capolavori di Cicerone cosa significa il titolo può essere tradotto con sui termini estremi del bene e del male è pure questo del 45 e è un'opera che indaga quale sia il bene assoluto in grado di realizzare la felicità è in in cinque libri che contengono tre dialoghi il primo dialogo contenuto nei primi due libri espone la teoria degli epicurei teoria epicurei che viene poi confutata subito da Cicerone nel secondo dialogo nei libri tre e quattro vengono messe a confronto le teorie stoiche accademica e peripatetica infine nel terzo dialogo contenuto nel quinto libro viene esposta la teoria eclettica di Antioco di Ascalona che era stato il maestro di Cicerone ed è la teoria che lui poi in un certo senso condivide la teoria più vicina a lui in pratica l'ecletismo ciceroniano mira a conciliare il rigore delle posizioni stoiche con l'apertura da un piacere modelato delle posizioni peripatetiche in pratica lui identifica il bene con il bene dell'anima il sommo bene è il bene dell'anima e il bene dell'anima coincide con la virtù quindi solo la virtù può garantire la felicità dell'uomo una posizione anche stoica come abbiamo visto nell'altra opera prima ora nel definibus offre un quadro teorico che cerca un'applicazione pratica nell'opera successiva le tusculane disputazione che cosa significa che in questa opera cerca di provare in che modo la virtù possa sostenere e orientare l'anima all'interno proprio della concretezza quotidiana della vita turbolenta della vita turbata della repubblica quest'opera anche questo è dedicata brutto e non prende il titolo dalla tematica che affronta che nei vari libri sono i temi della morte del dolore della tristezza dei turbalmenti dell'anima della virtù ma dall'ambientazione in quanto il dialogo viene immaginato nella villa di Tuscolo la villa di Cicerone di Tuscolo appunto altre opere filosofiche sono il Cato Maior di Sene Cotute e il Helius di Amicizia il Cato Maior fu composto nei primi mesi del 44 poco prima proprio dell'assassino di Cesare della morte di Cesare ed è un'opera in cui Cicerone fa parlare Catone che in un certo senso difende la vecchiaia da tutte le accuse che le vengono quotidianamente rivolte Catone si rammarica per il decadimento fisico a cui è purtroppo sottoposto visto la sua età avanzata e si rammarica soprattutto del fatto che non può più partecipare alla vita politica però il Catone di Cicerone appare come un personaggio differente rispetto all'immagine che la storia ce ne ha tramandato è un personaggio un po' più addolcito più ammanzito un cultore dell'humanitas molto raffinato amante della buona compagnia che riesce ad antiporre addirittura il bello all'utile come se nella sua vecchiaia Catone avesse armonizzato il gusto per l'ozium e la tenacia dell'impegno politico due esigenze che lo stesso Cicerone aveva cercato per tutto il corso della sua vita di conciliare nell'Elius invece l'Elius subito dopo la morte di Cesare ed era un periodo in cui Cicerone si preparava a ritornare in campo a riprendere la sua partecipazione politica quindi il tema il tono di questa opera è molto più combattivo il dialogo è ambientato nel 129 pochi giorni dopo la morte di Scipione Emiliano e Lelio ricorda la figura di questo suo amico scomparso e fa delle riflessioni sul valore dell'amicizia amicizia che per i romani aveva soprattutto una funzione politica cioè una creazione di una rete di supporto solo che adesso Cicerone parla dell'amicizia come come un valore fondante invece come qualcosa di molto più privato che sia scevro da qualunque tipo di torna conto personale e e quindi a fondamento dell'amicizia rimette valori come la virtus e la probitas la virtù e l'onestà e la rettitudine che sono riconosciuti a bassi strati della della popolazione quindi praticamente l'amicizia è una virtù tipica di tutta la gente per bene i boni quindi deve servire come cementare per cementare la coesione tra i boni tra le opere filosofiche tre si occupano di problemi collegati alla religione e sono il de natura de orm il de divinazione e il de fato Cicerone fu educato alla religione tradizionale anche per questo ha sempre rifiutato l'epicureismo proprio perché gli epicurei negavano la provvidenzialità divina nella nella storia umana e questo significava per Cicerone minare alle fondamenta lo stato romano oltre al fatto che gli epicurei non non volevano l'impegno politico se lo sappiamo quindi nel de natura de orm espone varie posizioni filosofiche sugli dei quella epicurea quella stoica e quella scettica confuta quella epicurea e quella scettica e propende più per quella stoica invece nel de divinazione cioè sull'arte divinatoria uscilla tra la denuncia della falsità di alcune pratiche dei sacerdoti degli auguri che in un certo senso si approfittano della credulità del popolo e la necessità però di queste di mantenere in vita queste pratiche perché significa controllare i citi inferiori il defato è invece un opuscolo che pubblicò dopo la morte di Cesare ed è una specie di naturale continuazione dei due precedenti si analizza il rapporto tra il destino e il libero arbitrio in pratica lui propende per il fatto che ogni uomo deve comunque cercare di farsi come dire autore del proprio destino senza rendersi alla alla filosofia che voleva che invece tutto è già stato scritto tutto è già stato predeterminato occupiamoci adesso del De Officis che è l'ultima opera filosofica scritta da da Cicerone nel 44 in tre libri dedicata al figlio al figlio Marco come paradoxa non è in forma di dialogo fu scritto un po' in fretta pubblicato forse anche postumo e ha come fonte il peritu catecontos di panese cioè sul conveniente e qui usa anche due neologismi due parole inventate da lui con ufficium traduce catecontos quindi il conveniente con decorum il prepon ciò che si addice ciò che conviene è suddivisa in tre libri ha un tono precettistico nel primo libro si parla dell'onesto cioè della virtù nel secondo libro dell'utile cioè i modi con cui la classe dirigente riesce ad ottenere il potere politico e il consenso popolare infine nel libro terzo affronta la discussione del conflitto sul conflitto tra l'onesto e l'utile un conflitto solo apparente perché in effetti non esiste in quanto l'utile deriva è una conseguenza dell'onestum dell'onesto quindi è una conseguenza del primo sono norme di etica pratica in pratica rispondono alle domande come si agisce nella società un uomo onesto come può agire nella società quali sono i suoi doveri e proprio per chi cerca di disegnare un modello di comportamento etico per la classe dirigente che ha questo tono precettistico vediamo adesso schematicamente la teoria del Deuficis innanzitutto Cicerone afferma che l'onestum scaturisce da quattro possibili fonti da quattro radici cioè si compone tra di quattro parti collegate fra di loro e quali sono la ricerca della verità la protezione tra società il desiderio di primeggiare e l'aspirazione all'armonia sono una specie di tradizionali virtù cardinali stoiche la sapienza la giustizia la fortezza e la temperanza tutte queste sono delle tendenze naturali innate nell'uomo però soltanto se vengono gestite indirizzate guidate dalla ragione daranno origine a dei comportamenti virtuosi questo perché perché da ognuna di queste quattro parti derivano categorie di doveri vediamoli uno a uno la ricerca della verità per natura l'uomo è spinto alla ricerca della verità è questo che poi dà origine alla sapienza però anche questa tendenza deve essere gestita con accortezza in modo da essere sempre orientata l'azione concreta cioè dice Cicerone studiare e ricercare fine a se stessi non danno benefici nella vita pratica invece la virtù si attua nell'azione quindi all'interno di azioni concrete si deve vedere che tu hai ricercato o hai studiato la verità poi si passa alla alla protezione della della società che trova la sua corretta realizzazione in due principi la giustizia e la beneficenza la prima cioè la giustizia è quella che tutela la proprietà privata la seconda è la capacità di donare i propri beni per il benessere della comunità erano temi anche di scottante attualità questo perché il venir meno della giustizia e quindi l'affermarsi della ingiustizia in giustizia indipoliva le basi della società e Cicerone distingue anche tra ingiustizia attiva e ingiustizia passiva la prima in pratica è l'avidità l'avarizia la seconda è legata al disinteresse al disimpegno per tutto quello che è vita pubblica vita societaria la beneficenzia può costituire un valore soltanto se è ben delimitata se rientra in limiti precisi cioè molto spesso chi ha chi ha tanto corrompe le masse tramite la donazione le largiziones o attraverso proposte demagogiche quindi la beneficenza può anche diventare una una cosa molto pericolosa nelle mani di individui senza scrupoli per cui Cicerone sottolinea che la beneficenza non deve essere posta a servizio dell'ambizione personale non deve essere un dare per ricevere qualcosa ma deve essere disinteressata si passa poi al desiderio di primeggiare anche questo è un istinto molto naturale molti vogliono essere migliori degli altri e quindi questo istinto naturale si manifesta nella capacità di imporre il proprio dominio da qui nasce la virtù della grandezza d'animo in pratica la ragione controlla questo istinto lo svuota della volontà di predominio quindi ci toglie tutto quello che c'è di egoistico e di prevaricatorio e trasforma questo istinto in una virtù che è capace di mettersi al servizio della collettività se invece questa trasformazione non avviene si arriva alla degenerazione quindi all'anarchia e alla tirannide infine c'è l'aspirazione all'armonia il regolatore degli istinti e delle virtù è la virtù della temperanza che deriva da questa aspirazione naturale all'armonia e se una persona è armonica con gli altri lo si vede anche esternamente cioè proprio da come si pone all'interno della società e quindi lo si vede tramite i pensieri i gesti e le parole quindi il decorum il decorum è proprio questa armonia dell'essere come appare all'interno della società ed è anche quindi uno stare attenti al vivere in mezzo agli altri a non urtare la suscettibilità degli altri a poter avere degli obblighi sociali in maniera urbana in maniera gentile e cortese con tutti gli altri passiamo adesso all'epistolario ci resta delle lettere scritte da Cicero ma anche delle risposte delle lettere che ebbe in risposta circa 900 lettere tutte risalenti agli anni tra il 68 e il 43 e sono state rilise in quattro raccolte 16 libri delle epistole ad Atticum che erano dedicate proprio ad Atticum il suo più intimo e fedele amico altri 16 libri delle epistole ad familiares quindi destinata a parenti e amici anche personaggi politici poi le epistole ad Atticum frate ma suo fratello tre libri e a Marco Bruto due libri destinati a Bruto dopo la morte di Cesare le lettere sono reali non fittizie che cosa significa che lui non le aveva concepite per la pubblicazione furono pubblicate soltanto in un secondo momento dal suo segretario il fedele Liberto Tirone e furono fatte pubblicare dopo la morte di Cicerone da Ottaviano per mettere in cattiva luce il suo avversario Antonio che era stato il responsabile della morte di Cicerone appunto assolvono ad una funzione pubblica però nascono proprio dall'esigenza di comunicare privatamente e personalmente quindi ci danno ci restituiscono un Cicerone privato un Cicerone come dire non ufficiale un ritratto più intimo dell'uomo Cicerone quindi con le sue debolezze con le sue indecisioni Cornelio nipote nella vita di Attico dice che sono una storia contexta eorum temporum c'è una una storia di quei tempi una cronistoria proprio di quei tempi andiamo avanti non tutte le lettere però sono l'espressione diretta e spontanea di Cicerone anche quando non scrive ai suoi amici si attiene proprio ai modelli ritorici della letteratura epistolare greca soprattutto dalle lettere ad Attico vengono fuori le insicurezze e le debolezze dell'oratore come se soprattutto in queste lettere lui sia stato più vero più sincero abbia aperto di più la sua anima per cui si vede la vanità la tendenza al lamento ma anche all'autocompiacimento qualche volta avrà ceduto anche ai compromessi però emerge anche la vitalità la lucidità la profondità dei suoi giudizi e anche un forte senso dell'umorismo l'arguzia e l'ironia lo stile dell'epistolario proprio perché avevano una destinazione pratica lo stile dell'epistolario è molto diverso da quello che abbiamo visto nelle altre opere che erano state concepite per la pubblicazione il lessico in pratica il lessico è quello del sermo quotidianus della classe arrivata romana con molti grecismi tanti diminutivi alcuni anche coniati proprio da lui alcune forme non classiche nella sintassi prevale la paratassi quindi la coordinazione mancano molti elementi a volte c'è l'ellissi di alcuni elementi proprio perché il carattere della comunicazione doveva essere molto più immediato Cicerone si occupò anche di opere poetiche anche se l'interesse poetico è marginale nell'ampia opera di Cicerone ma non insignificante del tutto nella sua maturità aveva mostrato un fiero rigetto nei confronti dei poete nuovi proprio a causa del loro disimpegno morale civile però al suo esordio poetico giovanile risentì proprio della poesia neoterica infatti compose dei poemetti caratterizzati da raffinatezza formale e erudizione mitologica quindi il graucus limon nilus e così via in seguito poi all'intensificarsi del suo impegno politico Cicerone passò ad un'epica quasi nazionalistica sulle orme di Ennio quindi dedicò un poemetto alla vita e alle gesta del suo concittadino Mario il Marius e altri due invece se li autodedicò quindi li dedicò alla propria attività politica quindi uno sul suo consulato e uno sulla sua epoca sono comunque opere di mediocre valore artistico e di scarsa rilevanza letteraria quindi come assegno vi studiate il testo 14 e il 19 l'uno a pagina 281 l'altro 292 con il solito commento scritto buon lavoro no